Lui, quindi che si riguarda un po' più di avvicino, però abbiamo su un vento, vediamo che ha un po' di spazio attorno, si vedono bene ma c'è un po' di spazio attorno, forse stringiamo. La cosa interessante secondo me, anche se sono lo zio del piccolo, è che secondo me forse funziona questa cosa. A volte si sente il vetro aperto, è come se fosse su completamente. Senti, senti bene. Ok, ripensi, ripensi la dieta, siete ripensi. Lui interpretava la protagonista molto più piccola, a cinque mesi, ed è rimasto per due minuti appeso. a quattro metri da terra, perché in realtà la protagonista volava. Io non mi appengo, eh. Ok, ci siamo. La scuola abbiamo pensato di farlo, ma non ci lasciano i permessi. Ci sentiamo di più che piante. No, di più delle persone. Vai, che dè? Un attimo, un attimo. Adesso. No, che fosse stato insieme. Veramente. In campo, motore. Motore partito, silenzio. No, che è successo. Vieni, una. 5 e 1 prima. Seconda. Va bene. 5 e 1 prima, seconda battuta. La scuola. Ok, Laura, ponte un po' per terra. Tiro giù. Ok, tu alzati. E adesso vai giù da noi. Vai, tiralo su. Allora, motore. Motore partito. E' partito. 5 e 1, terza. Vieni, tu. Vai. Andiamo in campo. Stop. Va benissimo così, grazie. 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 Mamma che sta piangendo, gli fa tenerezza, sorride, ma un secondo dopo si fa più tenerezza a lui e scoppia a piangere di nuovo. Questo è un po' il gioco. Scoppia a piangere e si rigira. La camera a spalla anche questa per legare, comunque con la precedente che era anche a spalla, come saranno tutti i camera a spalla, come saranno tutti i camera a car che faremo ormai. Questa è abbastanza semplice, facciamo anche qua un taglio secco anche perché di quella quadratura là useremo due secondi e di questa ne useremo un 15, quindi abbastanza rapida che non ci serve un cambio, un taglio in più e superfluo. E tanto te l'è? Grazie.